Benvenuti all'edizione delle 14.30 di Calabria News 24 in forma. In apertura la cronaca, la polizia portoghese in collaborazione con il ROS dei carabinieri ha arrestato il latitante Francesco Di Marte, di 53 anni, esponente di spicco della cosca pesce di Rosarno. L'uomo era ricercato da oltre un anno, i particolari nel servizio. Le autorità di polizia portoghese in collaborazione con il ROS dei carabinieri hanno arrestato il latitante Francesco Di Marte, di 53 anni, originario di Rosarno, ricercato da oltre un anno in quanto destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa nel maggio del 2015 a conclusione dell'indagine Santa Fe. Di Marte è ritenuto responsabile del reato di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito su richiesta dei militari del ROS che, nell'ambito di indagini coordinate dalla procura distrattuale di Catanzaro, avevano localizzato l'uomo nella località portoghese, attivando i canali di cooperazione internazionale tramite la direzione centrale per i servizi antidroga. Il latitante, contiguo alla cosca dell'Andrangheta Pesce di Rosarno, con precedenti di polizia per associazione mafiosa, armi e omicidio, è ritenuto responsabile di aver fatto parte, quale promotore e organizzatore, di un sodalizio criminale attivo nell'importazione di ingenti carichi di cocaina dal Sud America, per conto delle cosche dell'Andrangheta Pesce di Rosarno e Alvaro di Sinopoli. Secondo gli investigatori di Marte, commissionava i carichi di cocaina dal Brasile, avvalendosi di propri diretti collaboratori per mantenere i contatti con i narcos sudamericani. La droga veniva importata in Italia e occultata all'interno di container trasportati da navicarco proveniente dal Sud America e poi scaricate in vari porti italiani ed europei. Spuggito alla cattura nel maggio 2015, il latitante è stato localizzato dai carabinieri. I carabinieri di Rende, durante i controlli di routine, hanno denunciato 5 persone alle autorità giudiziarie. Sentiamo il perché nel servizio di Dario Rondinella. Mercoledì notte i militari dell'alliquota radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Rende, nell'ambito di una serie di controlli sul territorio, hanno deferito in stato di libertà un 36enne cosentino per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico. L'automobilista, risultato positivo al pretesto effettuato nei suoi confronti dai militari operanti nel corso di servizi di controllo della circolazione stradale, si è rifiutato di sottoporsi al successivo accertamento etilometrico. Ad altri due, invece, è stato contestato il reato di Guideni, stato di ebrezza alcolica, con il ritiro della patente dopo essere stati sottoposti anch'essi ad accertamento etilometrico, riscontrando un tasso alcolemico nel sangue superiore ai limiti consentiti dalla legge, mentre due uomini di Cosenza sono stati denunciati per resistenza pubblico ufficiale. Dopo la rinuncia ufficiale di Roma, continua il lavoro di occhiuto verso la candidatura alle Olimpiadi 2028 della Magna Grecia. Ce ne parla Paolo Tararico. È arrivata ora la comunicazione ufficiale e la lettera indirizzata al CIO con la quale Giovanni Malagò ha annunciato il ritiro della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, ma se da un lato c'è chi come Roma rinuncia a questa opportunità, dall'altro c'è invece chi continua il cammino verso la candidatura della Magna Grecia per la rassegna 5 cerchi del 2028. Un'idea quella del sindaco di Cosenza Mario Chiuto, che dopo aver incassato il consenso del primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, si rafforza anche grazie all'elezione del sindaco di Bari, Antonio De Caro, a presidente Anci. Si tratta di un ottimo segnale per riportare le dovute attenzioni in termini di crescita e sviluppo verso i nostri territori, ha detto Chiuto. Ne parlerò nuovamente con Luigi De Magistris, oltre che con lo stesso De Caro, con Leo Luca Orlando e altri colleghi dei principali comuni meridionali. Dopodiché vedremo di incontrare al più presto il presidente del CONI Giovanni Malagò. Se è vero che aumentano fortemente le chance di Los Angeles per il 2024, ha concluso o chiuto, questo non può che favorire l'Europa per l'edizione successiva. E ieri, in un noto quartiere di Cosenza, c'è stata una vera e propria mobilitazione per braccare una faina che aveva raggiunto, probabilmente spinta dalla fame, il centro cittadino. Repentino è stato l'intervento del comando del Corpo Forestale di Acri, che ha tratto in salvo l'animale. Vediamo il servizio. A Cosenza, mercoledì pomeriggio, un intero quartiere si è mobilitato con l'intento di braccare una faina per evitare che potesse finire chissà dove. Il musteride si aggirava tra le aiuole e le strade del vicinato sin dal primo pomeriggio e ha dato del filo da torcere ai residenti che in vano hanno cercato di catturarla, tant'è che dopo un po' è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nonostante tutto, i residenti hanno proseguito le ricerche, allertando nel tardo pomeriggio fino anche il Corpo Forestale dello Stato, grazie al Presidente dell'Enternazionale Protezione Animali di Rende, Lea Santaniello. Sul posto sono giunti gli uomini del comando Stazione di Acri, i quali, insieme agli abitanti del quartiere, che nel frattempo avevano individuato nuovamente la faina, in perfetta sinergia hanno agito sino alla cattura dell'animale. Infatti, dopo averla inseguita per tutto il quartiere, hanno costretto il musteride a rintenersi nei corridoi di un garage, spingendolo verso l'angolo dell'Androne, dove attraverso un escamotage, che ha fatto finire la faina in uno scatolo di cartone, gli agenti del Corpo Forestale hanno provveduto subito a sigillarlo. L'animale, nella stessa serata, è stato trasportato presso lo studio di un veterinario, che ha provveduto ad accertarsi delle condizioni di salute, in modo tale da poterlo riaccompagnare nel proprio habitat naturale. E continua il percorso del Parco Nazionale dell'Asila verso il riconoscimento a patrimonio UNESCO dell'Umanità, il servizio. Potrebbe avvicinarsi per il Parco Nazionale dell'Asila il riconoscimento a patrimonio dell'umanità UNESCO. Nel corso della vista effettuata dal valutatore dell'IUCN, Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, Gerhard Heiss, chiamato a redigere una relazione accurata, sono state messe in evidenza quelle che sono le caratteristiche del Parco Silano, l'unicità delle stesse, che rappresentano una delle caratteristiche fondamentali per ottenere il riconoscimento UNESCO. Nella Convenzione del 72 le linee guida operative prevedono dieci criteri, sei culturali e quattro naturalistici. Il lavoro qui si è concentrato sugli ultimi tre, cioè l'otto, il nove e il dieci. Quindi quello geologico, quello ecologico e quello biologico. Per cui la candidatura è strettamente naturalistica e quindi anche il valutatore sta controllando questi aspetti, cioè quanto di naturale c'è e quanto è come gestito. Questo è il criterio generale, cioè si candida a un posto che ha un valore eccezionale e universale, quindi deve essere nella lista qualcosa di unico, non tanto e non solo localmente, ma proprio a livello mondiale. Quindi c'è un'unicità geologica, è l'unico posto al mondo dove ci sono tre formazioni che coesistono, anche se non si vedono. E poi ci sono delle unicità biologiche, chiaramente il 90% dell'estensione del pino nero sotto specie calabrica è solo qui. Quindi le unicità ci sono. Adesso stiamo vedendo come inserirle in un contesto di gestione. presentata la nuova stagione teatrale 2016-2017 del progetto MOR ideato e diretto da Scena Verticale in partenariato con il Comune di Cosenza. Il progetto MOR ideato e diretto da Scena Verticale in partenariato con il Comune di Cosenza, il Mibact e la Regione Calabria torna in città con la nuova stagione 2016-2017 che si presenta con un'anteprima autunnale una sorta di piccolo festival concentrato in tre giornate il 21, il 22 e il 23 ottobre che accende riflettori sulle compagnie teatrali calabresi. L'evento è Focus Calabria ed è dedicato a compagnie artisti provenienti da tutta la Regione ma anche ad artisti calabresi residenti fuori Regioni. Nelle tre giornate si succederanno spettacoli, performance, studi, letture sceniche e incontri senza dimenticare lo spazio e il tempo per la convivialità. Questa volta facciamo questa prima parte del MOR sotto forma di festival nel senso un piccolo, solo tre giorni però con momenti spettacolari per tutta la giornata con letture, con performance, con studi teatrali. Tutto intorno a quello che la produzione teatrale calabrese in questo momento prova ad offrire al proprio territorio e a livello nazionale. Quindi appunto è un Focus, come l'abbiamo chiamato Focus Calabria che noi abbiamo già fatto nel 2013. Questo proprio per provare ad avere sempre un'attenzione a quello che di contemporaneo si muove nella nostra Regione. MOR FOCUS Calabria rappresenta per la città di Cosenza non solo l'anteprima del progetto MOR ma soprattutto un vero e proprio evento che si terrà nella città di Cosenza in una location particolare che è il Castello Svevo e che concluderà la tre giorni al Morelli che è il luogo dove il MOR ha dato il suo avvio. Davide alias Mirco Trovato e Toni, ovvero Pio Luigi Piscicelli tra i protagonisti della serie Braccialetti Rossi arriveranno sabato 15 ottobre alle 9.30 nella sala del Cinema Citrigno di Cosenza. Si svolgerà dunque nella città dei Bruzzi l'anteprima nazionale della prima puntata della terza serie di Braccialetti Rossi Fiction tra le più amate di Rai 1 un evento aperto agli istituti scolastici della provincia di Cosenza e ricordiamo che la Palomar Produzioni ha selezionato Cosenza come unica città in Italia per presentare questa anteprima nazionale. E ritorniamo alla politica a proposito del referendum del prossimo 4 dicembre abbiamo ascoltato le ragioni del Sì del segretario nazionale del PSI Franz Caruso. Gli socialisti sono schierati a livello nazionale per il Sì però i socialisti hanno intanto una cultura libertaria non dico anarchica ma libertaria sicuramente sì e su un tema importante come quello della riforma costituzionale penso che sia importante rispettare la coscienza dell'elettore informarla ma rispettarla. Per quanto riguarda la posizione politica che i socialisti erano per un'assemblea costituente che per bocca del suo segretario nazionale viceministro Riccardo Nencini ha avuto apprezzamenti nell'aula del Senato da parte di tutto l'emiciclo del Senato ma poi ha preso tre voti. Per cui noi rimaniamo fermi a quella posizione che voleva un'assemblea costituente rappresentativa in modo proporzionale di tutte le sensibilità del nostro Paese però questo non è passato prendiamo atto della volontà del Senato e quindi siamo schierate per il Sì alla riforma costituzionale. Ed è tutto per questa edizione io vi aspetto ai prossimi appuntamenti con Calabria News 24 Informa grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti.